L'esigenza di Antenne Europa settimo torinese e l'interesse della nostra amministrazione nasce sicuramente da un'attenzione che il nostro comune ha nei confronti del contesto europeo. Ormai non si può prescindere dalla partecipazione attiva delle amministrazioni locali, degli enti territoriali rispetto alle realtà sovranazionali. Quindi il principale dialogo che si può avere perché gli enti locali sono per antonomasia la democrazia di base, qui quindi si articola in senso orizzontale come cooperazione con gli altri enti ma al tempo stesso in senso verticale. Quindi in prima battuta con gli enti nazionali, la regione, lo Stato, però sicuramente ormai il dialogo costante e continuo con le istituzioni europee nelle quali abbiamo i nostri rappresentanti è un valore da promuovere.